Buongiorno a tutti, sono Elberisa Zariti, la dirigente scolastica del Liceo Scientifico Vittorini di Milano. Con questo breve filmato vi accompagnerò a comprendere meglio i due documenti che abbiamo predisposto per informare tutti i genitori studenti e stakeholders in merito al piano scuola 2021-2022. Abbiamo preparato un documento corposo in Word nel quale sono illustrate tutte le scelte che sono state compiute e si dà contezza delle motivazioni che le hanno originate. E una presentazione invece molto breve, snella, in dieci sole slide di PowerPoint per quelle persone tra di voi che avessero un approccio più pragmatico e volessero andare al sodo. L'intento è, con questo importante piano della comunicazione, di raggiungere il maggior numero di persone possibile. Il decreto 6 agosto 2021 ha assegnato la priorità alla didattica in presenza. È un'importante novità. L'accogliamo con sollievo. I nostri alunni hanno risentito psicologicamente molti di loro dell'isolamento, nonostante tutta la buona volontà e l'impegno con cui noi abbiamo erogato con continuità una didattica a distanza o una didattica digitale integrata che è stata, nella generalità dei casi, di grande valore. Ma in questa fascia d'età, dobbiamo stare insieme. E questo è quello che ha evidenziato il Comitato Tecnico Scientifico. Pertanto la didattica sarà in presenza per tutti, almeno finché siamo in zona bianca. Non sarà possibile quindi per una famiglia chiedere che il proprio figlio segua a distanza né che un docente possa erogare la didattica completamente a distanza. In caso di malattia grave, il ricovero ospedaliero di un alunno si ricorre a normative preesistenti che tutelano il diritto allo studio di questi ragazzi. Pensiamo però di conservare le nostre migliori esperienze di didattica digitale integrata valorizzandole all'interno della didattica in presenza. Certo, potrebbe peggiorare il quadro epidemiologico e allora in tal caso, su decisione dell'autorità sanitaria, torneremo al piano a scuola 2020-2021 che quindi è continuamente riproposto e conservato fino a quando vi sarà il coronavirus e quindi staremo in una situazione di attenzione e di allerta nazionale. È evidente che più giovani saranno vaccinate e più persone saranno vaccinate più facile sarà prevenire il contagio per tutti. Il piano scuola del Ministero richiama l'essenziale valore formativo della didattica in presenza come momento imprescindibile e indispensabile nel percorso di sviluppo psicologico di un ragazzo, di una ragazza, di un giovane. Il nostro documento di presentazione del piano scuola 2021-2022 ha una premessa e descrive ogni aspetto organizzativo del nostro servizio scolastico riletto in funzione della prevenzione del contagio ma anche in funzione del benessere dei ragazzi. Per questo si chiama star bene a scuola nel Vittorini. Il sistema scuola è molto complesso sia all'interno sia nelle sue sinergie verso l'esterno. Il documento descrive compiutamente le motivazioni delle scelte che abbiamo compiuto e l'organizzazione del servizio scolastico in modo più dettagliato. Invece la presentazione in dieci slide riassume solo gli aspetti concreti. Sono tre strumenti comunicativi quelli che vi proponiamo per cercare di darvi il maggior numero di informazioni per rassicurarvi in merito al livello di analisi che è stato compiuto e per darvi il maggior numero di risposte se è possibile così che l'anno possa iniziare sereno e tranquillo. Il decreto 6 agosto 2021 introduce degli obbligo e dei divieti alcuni che conferma l'obbligo delle mascherine almeno chirurgiche per tutti e il divieto di permanere nei locali della scuola per soggetti con sintomi respiratori e temperatura superiore a 37,5 gradi. Introduce delle raccomandazioni e cioè ogni qualvolta sia logisticamente possibile il distanziamento tra lo studente e l'altro di almeno un metro tra gli studenti. Per noi logisticamente possibile questo negli atri, nei corridoi, negli spazi comuni all'esterno. Il mantenimento di altre protezioni come la disinfezione delle mani, digine respiratorie, ricambio d'astro. Questi due diagrammi vi mostrano la complessità delle relazioni e dei livelli di comunicazione. Quella a sinistra è la gestione del protocollo di un positivo da parte dell'ATS e del sistema sanitario nel suo complesso. Quella a destra è la gestione del sistema scuola Vittorini analizzato con un diagramma reale e un'analisi reale della nostra realtà. L'arriaggiamento dei locali diventa quindi fondamentale. È stata compiuta un'analisi dall'ordine degli ingegneri che ha mostrato come un fattore determinante nella prevenzione del contagio sia il ricambio d'aria all'interno dei locali. Quindi, come è ripreso nel protocollo di sicurezza nazionale, noi investiamo nell'arriaggiamento dei locali. Adotteremo la serie additiva di misure di protezione, il termoscana dall'ingresso, l'obbligo di mascherina chirurgica, la disinfezione frequente delle mani, l'arriaggiamento continuo delle aule se il tempo atmosferico non consente o altrimenti almeno ad ogni cambio d'ora e per l'intero intervallo. Nelle aule saranno collocate le rilevature di CO2 per poter effettuare dei monitoraggi a campione periodici sull'avvenuto ricambio d'aria. Il distanziamento dovrà essere assicurato sempre negli spazi comuni. Sono pervisti i percorsi dedicati per le entrate e le uscite e l'intervallo regolamentato. Le attività sportive si svolgeranno come previsto dai protocolli sia sanitari e come da regolamento pubblicato. Il nostro documento descrive l'organizzazione degli spazi, dei locali, dei transit e le misure di igienizzazione adottate per ridurre fortemente il rischio di contagio. Inoltre, sul piano invece dello star bene insieme, riassume le misure di informazione, informazione, promozione, prevenzione che saranno messe in campo affinché si stia bene a scuola in entrambe le eccezioni. Non ci sia male, ma si viva anche la quotidianità in modo sicuro. Il decreto 6 agosto 2021 ha introdotto il Green Pass. Attualmente lo stiamo validando per i dipendenti, non ci sono problemi di sorta, sta funzionando il sistema. è alla firma un DPCM che introdurrà tale obbligo per tutti coloro che accedono all'interno della scuola, quindi anche i genitori e anche gli esterni. Danno per imminente la pubblicazione. Il documento in Word riprende il piano scuola 2020-21 che è confermato per quanto attiene il trattamento delle persone sintomatiche e dal punto di vista organizzativo è l'assetto a cui noi faremo riferimento dovesse peggiorare la situazione epidemiologica. Non è previsto attualmente alcun obbligo vaccinale per gli studenti e gli studenti non devono esibire la certificazione verde all'ingresso, però intanto sono mantenute tutte le regole del CTS previste nel 2020-21 rispetto al trattamento dei ragazzi o delle ragazze che avessero dei sintomi che fanno sospettare un possibile contagio. Inoltre considerate che per alcune iniziative come per esempio i viaggi d'istruzione con pernottamento o l'ingresso per esempio a museo o uno stage potrà essere necessaria la certificazione verde perché è prevista dalle strutture ospitanti. La vaccinazione consente quindi una libertà maggiore tutela sia lo studente che i suoi compagni. Saranno svolte iniziative di informazione per rispondere ai dubbi dei ragazzi. È prevista inoltre dalle norme alla frequenza obbligatoria di un corso di un'ora aggiuntiva all'orario sulle misure di prevenzione del contagio. Il liceo organizzerà quasi completamente l'offerta formativa che potevamo garantire prima del coronavirus ovviamente con le opportune precauzioni ma anzi ne introdurremo alcune in più. Saranno utilizzati i laboratori del liceo ripartiranno molti progetti si reattiveranno gli sportelli psicologici d'ascolto. Sarà possibile e questa è una novità studiare in biblioteca tra i pomeriggi e alla settimana con un docente di disciplina si alterneranno le diverse discipline e quindi gli studenti potranno porre domande quesiti uno studio assistito che sarà un servizio sicuramente gradito da molti studenti. Saranno attivati i percorsi di consolidamento per tutti gli studenti che sono stati promossi con aiuto o che hanno comunque delle fragilità per le classi di biennio su inglese latino e matematica. sarà adottata una modalità creativa che coinvolgerà anche i ragazzi più grandi. Riprenderanno gli sportelli didattici altre iniziative di supporto allo studio compresi gli sportelli psicologici. Per favorire la conoscenza ricicola degli studenti e io penso che questo piacerà molto agli studenti l'iniziativa classe si diventa che in passato era offerta alle prime viene non solo utilizzata per le prime ma anche per le seconde e per le terze le prime e le seconde andranno a svolgere una giornata fuori porta e quindi una gita chiamiamola così o comunque un'iniziativa aggregativa al di fuori dalla scuola le terze avranno una mattinata dedicata a giochi di ruolo animazioni e attività per la conoscenza reciproca condutte da un'equipe qualificata il regolamento di istituto il patto di corresponsabilità e gli orari hanno subito delle importanti modifiche l'orario deve adeguarsi alle direttive prescrittive del prefetto di Milano secondo cui il 70% degli alunni deve entrare alle 8 e il 30% dopo le 9.30 nel piano nel documento complessivo vedete tutte le argomentazioni in proposito nel caso di peggioramento delle condizioni epidemiologiche non sarà più previsto dice la direttiva prefettizia il 100% in presenza ma potrebbe scendere il numero di studenti ammessi alla presenza al 50 o al 70% in quel caso si utilizzerà il modello organizzativo adottato l'anno scorso rileggete il regolamento di istituto e il patto di corresponsabilità che sono nella sezione offerta formativa perché vedrete le novità di quest'anno manteniamo il regolamento della didattica digitale integrata se dovesse servire nella misura in cui potrà essere ancora un valore occorrerà perché tutti noi adottiamo un abito smentale agile ed utile perché la realtà può essere volatile e richiedere adattamenti in corso d'anno la collaborazione di tutti è la misura primaria di prevenzione perché a scuola nel Vittorini si stia bene cioè non ci si ammali ma anche si possa vivere con un po' di un po' di